Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Eileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi vorrei farvi ascoltare un estratto tratto dal romanzo Last First Kiss di Ava Luan. In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda, dedicato a te. Tu sei arte, molti non ti capiscono, pochi ti apprezzano. E poi c'è chi si innamora di te soltanto guardandoti. Capitolo 1. Kayla. È la festa di compleanno di Becca, la mia migliore amica dall'asilo. E tra poco otterrà ciò che più desidera per i suoi 14 anni. Un bacio con la lingua da Tyler Jones. Abbiamo provato a girare la bottiglia così tante volte nei giorni scorsi che il fallimento non è contemplato. Becca e io abbiamo un piano perfetto. E funzionerà. Proprio qui nel seminterrato, mentre i suoi genitori sono al piano di sopra e noi siamo circondate da bibite e musica. Tyler Jones bacerà la mia migliore amica, perché la bottiglia finirà dritta su di lui. Adesso però tocca a me. E io non ho così tanta voglia di baciare qualcuno. Non credo neanche che un bacio possa cambiare per sempre la nostra vita, come invece sostiene Becca. A dire il vero, nemmeno mi importa chi darò il mio primo bacio. Ho visto mio fratello Mark baciare così tante ragazze che il romanticismo se n'è andato a farsi fottere già quando avevo 10 anni. Perciò, al contrario di Becca, per me questo gioco non è questione di vita o di morte. Non significa niente di niente. Mi chiamo Kayla Holmes. Ho ancora 13 anni e l'idea di baciare mi annoia persino. Non mi diverte affatto starmene qui in cerchio a fare questa cosa inutile quando potrei giocare alla cross con la mia squadra o con mio fratello. Mi accontenterei anche di farlo alla Playstation, ma è il compleanno di Becca e devo resistere. Quindi eccomi a trascorrere una noiosa domenica carica di sbaciucchiamenti. Faccio girare la bottiglia velocemente, senza aspettative, e sta per fermarsi proprio su... Tyler! È una frazione di secondo. La bottiglia rallenta la sua corsa e il mio sguardo smette di seguirla per saettare verso quello di Tyler. Ed è qui, al compleanno di Becca Richards e più precisamente alle 16.45 di un pomeriggio piovoso, che per la prima volta smetto di pensare alla cross e mi accorgo di quanto siano affascinanti gli occhi di Tyler Jones. Sono grigi, sono verdi, merda, sono grigi e verdi insieme. Due colori perfettamente amalgamati tra loro in un vortice che mi risucchia. E anche il sorrisino che gli spunta sulle labbra al suo perché. Fa persino apparire una fossetta laterale sulla sua guancia destra. E di colpo, e con il cuore a mille, capisco per quale motivo la faccia di Tyler Jones compare nelle pubblicità dei prodotti Choco Candy e sulla confezione delle sue barrette di cioccolato e degli ovetti Shkoko, che negli ultimi due mesi mi hanno fatto ingrassare di due chili. L'attimo seguente incontro l'espressione inorridita di Becca e mi ricordo di nuovo del nostro piano perfetto. Io non posso baciare Tyler Jones. È suo, è la sua cotta, non la mia, anche se il mio cuore sta correndo veloce. Per questo decido di imbrogliare e poco prima che la bottiglia si fermi su di lui, le do un colpetto con il gomito con la scusa di prendere una patatina dalla ciotola. E si sposta. Di pochissimo. Ma tanto basta per centrare in pieno Montgomery White. Nessuno contesta il mio blef. L'espressione di Becca si fa più sollevata. Che i baciamonti! Sentenzia scrollando le spalle e avvicinandosi al mio orecchio, aggiunge a voce bassissima. Per questo sei la mia migliore amica. Nessun'altra l'avrebbe fatto. Perché qui dentro vorrebbero tutte baciare Tyler Jones, il ragazzo delle pubblicità che si è trasferito da poco nella nostra cittadina. Tutte, tranne me, che non desidero baciare nessuno in particolare. Non mi tiro indietro. Anche se temo che mia nonna possa entrare da un momento all'altro per servirci qualcosa. Non posso sottrarmi in ogni caso. Nessuna l'ha fatto. E non so nemmeno per quale assurdo motivo. Mentre mi alzo dal pavimento per farmi piantare la lingua tra le labbra da quel secchione pieno di brufoli di Monty White, i miei occhi corrono di nuovo su Tyler e sul sorriso divertito che gli piega la bocca ora che guarda a me. Nell'aria comincia a diffondersi il last first kiss degli One Direction. Dopodiché il volto di Tyler scompare perché Monty reclama il suo bacio e per poco non vomito. È uno schifo. La sua lingua turbina nella mia bocca come una ventosa che sa di patatine alla cipolla, alito cattivo e schifezze del compleanno di becca. Forse non si è nemmeno lavato i denti prima di venire alla festa. Un movimento inatteso del mio stomaco mi fa capire che è questione di attimi. Sto per vomitare. Cerco subito una via di fuga e scatto all'indietro e in meno di tre secondi mi allontano dall'ispezione della viscida lingua ventosa di Monty White. Troppo tardi, i conati arrivano e mentre gli altri ridono io corro verso il bagno a rimettere. Mai più Kayla Holmes, dico a me stessa lavandomi il viso, sfregando la bocca e sputando nel lavandino per liberarmi dei resti della sua saliva. Non bacerai mai più nessuno, avverto il mio riflesso, e per fortuna mia nonna non ha fatto il suo ingresso durante il gioco della bottiglia il mio viscido bacio. Già, è stato sufficientemente traumatico così, e quella sensazione disgustosa non se ne è ancora andata all'inferno. Merda. Mark non mi ha mai detto che avrebbe fatto così schifo. Solo che il liceo sarà una palestra per imparare a baciare. Io sono ancora in terza media, forse per questo è stato un disastro. In ogni caso, non ho intenzione di sperimentare di nuovo. Non mi scriverò mai alla palestra dei baciatori tanto decantata da mio fratello. Quando esco dal bagno e torno nel caos, Beck e Tyler sono in piedi, al centro del cerchio, tra gli invitati seduti. Rallento i miei passi e osservo la scena. Tyler le prende la nuca e la vicina a sé come Monty non ha fatto con me. E sono così concentrata su un loro due che nemmeno ascolto la canzone che fa da colonna sonora ciò che sto guardando. Una mano di Tyler tra i capelli biondi di Becka, l'altra che le stringe la vita per attirarla un po' di più contro di lui. Poi vedo le sue labbra che pregmono su quelle della mia migliore amica. Questa non è un'invasione di una lingua ventosa, è un bacio delicato che mi fa trattenere il fiato, come se fossi io quella che Tyler sta baciando. Batti cuore, elettricità nelle vene, mancanza di respiro. È questo che sta provando Becka? Perché è esattamente ciò che sto avvertendo io dal mio angolo. Lei non fugge come me, rimane fino a quando lui non decide che il bacio è finito e la festa prosegue senza il maledetto gioco della bottiglia. Sto arrivando, leggo il messaggio di Mark e tiro un sospiro di sollievo. Finalmente abbandonerò la festa, che da appena piacevole è diventato un mezzo incubo e non so nemmeno io spiegarmi il perché. Per il mio bacio con Monti Ventosa, certo, ma anche per qualcosa di diverso, qualcosa che ha a che fare con le occhiate intense che mi lancia Tyler e con l'essermi improvvisamente resa conto di quanto diavolo sia bello. Ci vediamo a scuola? Mark è già qui fuori. Mento a Becka per uscire da casa sua e aspettare mio fratello lontano da tutti. Da Tyler. Che da quando il bacio è finito non ha fatto altro che lanciarmi i suoi sguardi da tachicardia non voluta. Becka mi trattiene per un gomito. È stato così brutto baciare Monti? Indaga, soppesandomi a lungo. Annuisco appena, mentre lei allontana la mano dalla mia giacca di jeans. Disgustoso, confermo. Un sorrisetto ebete le aleggia sulle labbra. Magnifico. È così che è stato per me. Mi dice attorcigliando sul dito una ciocca di capelli dorati. Ti andrà meglio la prossima settimana, alla festa di Chantal. Aggiunge con gli occhi azzurri che le brillano. E io potrò baciare di nuovo Tyler. Non ho alcuna intenzione di baciare ancora e non ho nemmeno voglia di assistere a un altro suo scambio di saliva con Tyler Jones. Ma dalla bocca mi esce tutt'altro. Certo. Una risposta che vorrebbe sembrare entusiasta, ma che in realtà non lo è affatto. Mark può aspettare ancora un po'. Vieni con me, Kay. Andiamo un attimo nell'ufficio di mio padre. Becca mi fa strada. Che ci facciamo qui? Chiude la porta dietro di noi e senza rispondermi si avvia verso l'enorme e ordinata scrivania in mogano del padre. Apre un'anta dell'armadio dietro di essa e prende qualcosa avvolto nel velluto blu. Segue i suoi movimenti con interesse. E quando Becca mi mostra cosa c'è nascosto lì dentro, aggrotto la fronte. Coltellini. Un sacco di coltellini. Mio padre li colleziona. Ognuno di essi corrisponde a un viaggio d'affari in qualche parte del mondo. Mi rivela. Sorride e ancora non capisco perché voglia farmi vedere la collezione di coltellini del signor Richards. Scegliene uno. Mi invita. Perché? Domando titubante. Becca sbuffa. Sono la tua migliore amica ed è la mia festa. Fallo e basta. Non insisto e le indico un coltellino con il manico verde smeraldo e dei disegni in argento. Mi piace. Viene da Panama. Risponde di fronte alla mia scelta. Voglio che tu e io diventiamo sorelle di sangue. Afferma spiazzandomi. Proprio come accade nel film che abbiamo visto insieme quando eravamo più piccole. Prende il coltellino che ho scelto e i suoi occhi chiari mi fissano a lungo. Farò un piccolo taglio sul dito di entrambe. Poi li uniremo per premere le ferite l'una contro l'altra. In questo modo il mio sangue si mischierà al tuo e noi saremo più legate che mai. Ti va di farlo? Ci rifletto su per qualche secondo. Non ricordo il film in questione e non sono molto ansiosa di tagliarmi un dito. Ma sembra che Becca ci tenga particolarmente. Il suo volto da bambola di porcellana è carico di aspettativa. Kay, davvero vuoi rovinarmi la festa rifiutando di diventare mia sorella? Sono ancora riluttante, ma è il suo compleanno e non me la sento di dirle di no. Va bene, acconsento infine. Allora allunga l'indice verso di me. Obedisco e mi fa un taglietto che brucia e libero un versetto di dolore. Poi fa lo stesso su di sé, trattenendo una smorfia. La nostra sorellanza è siglata con il sangue e con essa anche il nostro codice, il codice delle ragazze. Annuncia come se fosse un vero rituale, mentre unisce l'indice al mio e il nostro sangue si mescola. Tu e io saremo migliori amiche per sempre. E negli anni aggiungeremo nuove regole al nostro codice. Quali regole abbiamo? Becca allontana la mano dalla mia. Prendere sul serio la nostra amicizia. Ora ripeti dopo di me. Prometto che non ti tradirò. E so che anche tu non mi tradirai mai. Ti prometto che saremo amiche per sempre e ti credo quando mi dici che nessuno al mondo potrà mai rovinare la nostra amicizia. Ti prometto che nessun ragazzo si intrometterà mai tra di noi. E ti credo quando mi dici che non accadrà. Né ora né mai. Ok. Balbetto titubante. E non so perché diavolo accade. Ma, mentre ripeto le sue esatte parole, l'immagine di Tyler Jones fa tappa nel mio cervello, mettendomi in agitazione. Fatico persino a respirare l'aria che in questa stanza è diventata pesante. Il mio malessere improvviso, però, non è ciò che sta avvertendo Becca, perché lei sorride entusiasta. Ora siamo ufficialmente come sorelle. Il rituale è concluso e fuggo da lei e dalla sua festa per aspettare l'arrivo di mio fratello sul vialetto di casa dei genitori di Becca. Una vera e propria strada alberata protetta dall'esterno da una recinzione altissima e a prova di ladri. Per entrare nella proprietà c'è un cancello con tanto di postazione che permette al dipendente di turno di far accedere chi ne ha autorizzato. L'auto di Mark lo è. Noi abbiamo una specie di pass di famiglia, dato che i miei nonni lavorano qui. Ed è stata proprio mia nonna a preparare tutto per la festa. Per un po' l'ho anche aiutata, prima che Becca mettesse in chiaro che gli invitati non aiutano il personale di servizio. Il dito brucia ancora e me lo porto alle labbra per succhiarlo e provare ad alleviare un po' il pizzicore. Sta ricominciando anche a piovere. Alzo il viso verso il cielo coperto da nubi temporalesche, con l'immagine di lui che bacia lei. Ma sono io quella che rivedo davvero nella mia mente. Quando la sento, la visione si frantuma in un secondo. La sua voce. Alle mie spalle. Oggi ti ho lasciata imbrogliare. Ma la prossima volta riuscirò a baciarti, piccola Scioco. Scioco. Uno dei prodotti principali del marchio Scioco Candy. Mi volto di scatto con il cuore in gola e l'imbarazzo sul viso, perché il modo in cui Tyler mi ha chiamata mi fa sprofondare. Lui mi ha vista. Naturalmente. L'altro giorno al supermercato ero con mia nonna e lui con sua madre. E la sfiga ha voluto che fossimo in fila alla stessa cassa. Speravo non si fosse accorto di nulla, ma mi ha appena smentita. Quindi, pessima notizia degli ultimi secondi. Tyler Jones ha assistito alla mia uscita dal supermercato con quattro pacchetti di resistibili Scioco, con la sua faccia sorridente su ogni confezione. Io amo questi ovetti al latte con la granella di nocciole e mi causano dipendenza, specialmente nei giorni più no. Ma non avrei immaginato che proprio il loro volto principale mi avrebbe beccata a comprarne un'intera scorta. Tyler è poggiato di schiena contro il muro della casa rosa di Becca e mi osserva con un sorrisino strafottente e le mani nelle tasche dei jeans. Cerco di soffocare l'imbarazzo. Non credo, ma puoi provarci se vuoi. La paura nella mia voce lo fa sorridere un po' di più e mi rendo conto, in ritardo, di averlo appena sfidato a baciarmi. Corro a ripari. Ehm, ho detto che puoi provarci, ma non intendevo che puoi davvero provarci. Io... Hai intenzione di andare alla festa di compleanno di Chantal Brown? Mi interrompe di colpo. Perché me lo stai chiedendo? Domando a mia volta. Tyler scrolla le spalle. Non voglio vederti baciare qualcun altro per colpa di quello stupido gioco. Risponde, cogliendomi di sorpresa. Soprattutto quando so che vorresti baciare me. Lo voglio? Merda. Probabilmente sì. Ma è ingiusto nei confronti di Becca e ora anche del nostro patto appena sigillato. Quindi scuoto la testa per negarlo a lui e a me stessa. Ti sbagli? Gli dico. Stando attenta a non farmi tradire dall'intonazione della mia voce. Mi stai confondendo con il resto della nostra scuola perché io non voglio baciarti. Le mie parole però non lo scoraggiano nemmeno un po'. Perché il suo atteggiamento non smette di essere sicuro. Ti prometto che nessun ragazzo si intrometterà mai tra di noi. Sarò io, dice avvicinandosi mentre la pioggia comincia a cadere su di noi e nella mia testa rimbomba la formula del rituale. Sarò io, piccola scioco, il tuo ultimo primo bacio. Perché quando accadrà non vorrei baciare nessun altro per la prima volta. Vorrei soltanto me. Il mio ultimo primo bacio. Proprio come la canzone che stavo ascoltando quando mi è toccato baciare Montgomery White. Il cuore batte così forte che rischia di esplodermi nel petto. È un ritmo pericoloso. Un battito frenetico mai avvertito prima. Neppure dopo ore di allenamento o durante una partita della cross. Nemmeno al mio risveglio dall'incidente che mi ha cambiato la vita. Mi vorrai proprio come quelle praline di scioco. Mormora, sfiorandomi un orecchio con le labbra e il respiro. Non importa a chi hai dato il primo. È l'ultimo primo bacio quello che conta e che rimarrà per sempre qui dentro. Conclude toccandomi la fronte con un dito per indicare la mia testa. Quello che cancellerà qualsiasi bacio sia avvenuto prima. Non vedi l'ora che accada per dimenticare la tua esperienza disgustosa con Montgomery White. Non è vero? La sua sicurezza mi destabilizza. Come fa a essere tanto certo? Che rimuoverò il disastro accaduto con Monty White dal mio cervello e mi concentrerò esclusivamente sul nostro bacio. E la cosa peggiore è che proprio io che fino a questa maledetta giornata non avrei voluto baciare nessuno ora non riesco a distogliere lo sguardo dalle sue labbra perfette. Sono così invitanti e Tyler mi becca a fissarle. Ecco perché la piega in un sorrisino trionfale che mi fa rinsavire prima che ceda e lo baci davvero. Io devo andare. Prendo le distanze e corro via. Ma serve a poco. Perché mentre la pioggia si intensifica e il mio cuore fa un casino dentro di me quelle farfalle inafferrabili di cui becca ma tanto parlarmi decidono che è arrivato il momento di schiudere le ali nella mia pancia e di mostrarmi così la loro esistenza. Spero che questo assaggio di lettura vi sia piaciuto. Per scoprire come procederà la storia non vi resta che leggere il libro. Se volete che legga un estratto di uno dei vostri libri preferiti o c'è una voce maschile che ha voglia di collaborare con me scrivetemi nei commenti o sui miei social. E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi bisogna leggere. Michel Foucault Alla prossima, ciao!